Allora buonasera, siamo in attesa di collegarci con Villa Claudiano, ci sarà il discorso del Presidente, da qui ci sono la famiglia Masciulli, buonasera, quindi appena la regia mi dà l'ok, allora siamo pronti? Buonasera Presidente, buonasera, italiani, torsallorenzesi, anziani, no no no, abitanti di Anzio, no anziani, non volevo intendere anziani, volevo dire abitanti di Anzio, ardeani, ardeesi, buonasera a tutti. Come ogni anno ci ritroviamo a dover fare un bilancio appunto di questo anno che si sta per chiudere. Bene, quest'anno in controtendenza ci faremo i sì nostri, infortuni, guasti, blackout, ci buttiamo tutto alle spalle e guardiamo al futuro con il guardo fermo. Come ogni anno ci troviamo ad augurarci cose per l'anno che verrà. Bene, quest'anno in controtendenza ci faremo i sì nostri, anche in questa occasione. Caro 2021-1, non ti voglio neanche nominare, l'unica richiesta è di fatti i sì tuoi, fatti i sì tuoi, bravo, quello è. Non ci calcolare, caro 2021-1, non ci pensare, non esistiamo. Non ti chiediamo nulla, stai tranquillo, pensa a chi stasera ti nomina, accalisciti con chi stasera ti pensa, ti spera, ti desidera. Applausi. E tu, caro 2022-3, neanche a te ti voglio nominare, altrimenti mi bannano e non mi mandano in onda. Stai per terminare, gliel'hai fatta allevate dalle scatole, ti hai perseguitato fino all'ultimo, fino all'ultima settimana, all'ultimo giorno, all'ultima ora, all'ultimo secondo. Riprendi il cotechino per fuori che è stato crotto nel 2022-3. Ma noi stiamo ancora qui. A voi tutti, cari, non ti voglio nulla. Non auguro niente a nessuno, se non quello di passare il tempo con le persone che amate. Saluti a tutti, da Villa Claudiano, lì nello studio, applausi per favore. La mamma si è addormentata. Scusi, ma posso farle qualche domanda? Non era programmata. Ma la bandiera bianca? La bandiera bianca è perché noi ci arrendiamo al discorso del Presidente stasera, che come tutti gli anni ha chiesto sacrifici a noi italiani. Ha detto che c'è un divario tra il nord e il sud, invece di dire tra gente comune e politici. Quello è il divario, diciamocelo. E poi soprattutto ha parlato dei giovani, la grande forza è che i giovani, caro Presidente, se ne stanno a tutti. E continuate così, vedrete che ci troviamo con l'esercito che vedete qui dentro. e cioè li dovete campare e gli avete dato quell'aumento della pensione 2,05 euro al mese. Quindi vergognatevi. Saluti a tutti, da Villa Claudiano, lì nello studio, buon anno, eccetera. Non si dice. Non ti auguri. E la bandiera bianca. Arrivederci. Arrivederci e grazie. Ciao. Vai, cazzo. Siamo a me, cazzo. Grazie, grazie. E poi io potevo fare, Claudio, qua, via. La figana, perno. E poi io bello. Ma come io, eh. Ma come io. Ma come io, ma? Questa, l'idea è ancora, no? Questa. Beh.